Ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video, oggi sono qui come avrete letto dal titolo con una challenge veramente abusiva Andrò a pagare 50 euro per ogni kill che farà scuma con il nuovo pompa La cosa buona è che ne stavamo parlando proprio ieri che è appena uscito il nuovo pompa Quindi ancora nessuno sa utilizzarla al meglio, neanche a scuma per fortuna E sarà molto complicato fare le kill, anche se devo dire la verità Io mi ci sto trovando abbastanza bene, mi ci sto allenando, sto trovando il timing Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, secondo me è molto forte, potrà dire la sua Con il tempo, con il tempo probabilmente ci sarà anche qualche aggiornamento della Epic Detto ciò ragazzi vi ricordo di supportarmi nello shop con il codice creatore Tico trattino abusivo se volete vincere il nuovo pass, ma soprattutto se volete fare il provino per il team Detto ciò andiamo da scuma raga, io ho chiamato Revo, era in live Ho chiamato Zara, sta dormendo, ho chiamato Jaren, che vabbè Jaren è scarso, sta dormendo E alla fine a scuma, il fortunato sarà a scuma Quindi andiamo da lui e vediamo se è pronto, anche se penso di no Visto che come ho detto è appena uscito, devo ancora capire come funziona A scuma, allora ascolta, ti darò 50 euro, sono tantissimi, per ogni kill che farai con il nuovo pompa Sei capace? No Cosa? Con il nuovo pompa, allora, boh, è diversa la situazione Allora, com'è diversa la situazione? Allora, lo sai usare? Pensavo normalmente Eh, pensavo normalmente, è arrivato, 50 euro per ogni kill da scuma, divento povero Oh, vabbè Ho solo il nuovo pompa, eh Naturalmente potrei killare con le altre armi, però non contano Cioè, ogni kill con il nuovo pompa, 50 euro Tutto ciò, let's go, metto salta e let's go Ragazzi, 15.000 like e farò la stessa cosa con Jaren, Zara e Revo Naturalmente con Jaren e con una piccola modifica Ovvero ogni kill che farà con altri armi, mi dovrà dare lui 50 euro Vabbè, dobbiamo scammarlo Jaren, raga, Jaren ha scammato Ok ragazzi, ci siamo Sono veramente preoccupato per il mio conto in banca L'unica cosa che mi rassicura un pizzico è il fatto che non lo sappia utilizzare ancora bene Mi metto gli occhiali così Ma, hai già perso vita? Cos'è successo? L'ho trovato bianco per fortuna Eh, ho tirato uno allo start Ma con il pompa Eh, scu ma Ok, è onesto, non mi ha scammato Comunque ragazzi, perché ho detto 50 euro? Potevo dire 10 euro Sono pazzo, mi sono auto scammato Però per fortuna, raga, ci rifaremo i soldi con Jaren Perché lo scammeremo Anzi, più soldi spenderò in questo game Ok, in questa challenge, più scammerò Jaren Quindi Jaren, intanto non guarderà mai questo video Jaren, il mio amico scammato Ma c'è gente, Asku? Ma credo di no, cioè Sì, 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 ok Let's go, let's go Grazie gioco, grazie gente Grazie lobby che nessuno è sceso a siepi Per fortuna, raga, per fortuna Quanto è lontana dalla safe? Ok, abbastanza vicino Poi comunque, la cosa di questa mappa che mi piace È che c'è molta mobilità con le barche adesso Cioè con i motoscafi Perché è tutto acqua E quindi ci si muove abbastanza facilmente Poi ci sono anche quei vortici Oh, c'è qualcuno sopra Con il caccia? Distraiamo, distraiamo Asku Asku, ma non deve killare Per fortuna non ha shield Non deve killare Asku Ti ricordo che hai due possibilità, eh Hai due possibilità? Ma quale è fuggito? No, sta ancora lì? Spero di no Spero di no Spero che qualcuno glielo scammi Io sento colpi di cecchino Ma perché non sparano al nemico? Sta lì Quanto? 73? No, quanto? Non ho visto bene Non mi sembra fortissimo il nemico C'è qualcuno che spara con il cecchino Per favore Prendete Asku Prendete Asku Che mira hai con il cecchino? Quello è uscito? Se n'è andato? È entrato dentro casa Non si è coperto No Ma come si è coperto questo? Al contrario Si è coperto Cioè non solo ti ha fatto killare Ma gli ha anche upgradeato il pompa Va bene Per fortuna ce n'è un altro Ce ne sono due Cioè non per fortuna Allora La cosa buona è che non ha scudo La cosa buona è che non ha scudo Let's go Carica il pompa La cosa brutta di questo pompa Che per adesso è la cosa buona Questo game Che fa rumore Quindi non si sente più niente Quando è caricato Io ti ricordo che puoi killare con qualsiasi arma Sku ma potresti anche prenderti un tac Però È il rischio tuo Io ti ho detto Ogni kill con questo pompa sono 50 euro E già hai vinto 50 euro Quindi devi decidere te Devi capire la situazione E valutare Raga Mettiamolo un po' sotto pressione Mettiamolo un po' sotto pressione Ma raga hai due possibilità E poi se muori Finisce qua Quindi Sta a te Che a parte una R Una M4 Potresti prendere il tac E andare sotto con il tac No no raga Lui no Lui deve L'enemico ha il tac Ghost hit No non sto capendo Ragazzi due volte ghost hit Cioè questa ghost hit 102 È forte questo pompa Il nemico Perché becchi gente così scarsa Non ci sta capendo nulla L'hai completamente bloccato 38 Dai che è andato Dai Vai con la R Asco No Poteva andare con la R No Pure gli shieldini Pure gli shieldini Ok Ok No Ma cosa fa Ma perché tutti Però è strano questo pompa Vedi Alcune volte togli tipo 30 L'avversario non sembra essere male Ma non è a livello di Ascuma Prova a salire ancora No è sceso A cambio di idea Sta caricando il pompa Attenzione il gas Esce dalle Oddio Oddio non ci ho capito niente Per fortuna Comunque la notte è veramente un casino Non si vede niente raga Soprattutto per noi che registriamo Cioè per me che registro Che ho le luci La notte non si capisce niente L'avversario Prova a prendere le ground Oddio Ascuma è andato Ascuma è andato Una shield non ha niente Può farsi una benda Bro Io ti consiglio di non rischiare No no niente Lui deve portarti a casa 29 Ascu Ascu il nemico ti fa Il nemico ti fa Raga No è il medikit No è il medikit Ma quanta vita ha No 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 Quante kill Quante kill Quattro e una di AR Ok una di AR Una di AR Quindi 150 No raga Raga veramente 150 euro sono Troppi E sono ancora in 22 E non sta incontrando gente forte Questa è la cosa che Ma com'è possibile Vabbè ok che livello Non c'è più il matchmaking Va bene raga Comunque Ascu puoi killare anche con la AR Cioè nessuno te lo vieta Cioè Eh Boh dipende Cosa Boh dipende Non credo che lo farai Grazie Arcata Ragazzi per favore Supportatemi nello shop Con il codice Dico trattina abusivo Perché raga Dopo questa challenge Sarò povero Per favore Devo mantenere La mamma di Jaren La cosa buona è che Nel frattempo che lui sta andando in safe I nemici si sono killati Quindi sono rimasti in 16 Per fortuna Dico io Per fortuna Pensate un attimo Se dovesse trovare Questo pompa oro No raga Ecco si può trovare Blu Ma raga ma perché parlo Ma mi scammo da solo Ma secondo te si può trovare Viola O direi per forza Si 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 può trovare Fino al leggendario Ok ok La safe quanto è lontana Si Dall'altra parte della mappa Si In 14 Raga let's go Raga let's go Deve andare anche a piedi Deve andare anche a piedi Ma veramente vai con la barca Comunque puoi anche fermarti A farmare un po' di materiale Un po' di Bravo Per un attimo si ma Cosa per un attimo si Guarda lo sai che se tu Entri Raga non li ha visti Ok le splash Le splash Guardate che fortuna Raga non li ha visti No No Li ha visti No Perché non funziona il pettine Con il salta Quindi delle cose me le senti Ma lo sai che se prendi Quei secchi là Hai presente? Vai direttamente in safe C'è presente? Fidati Sì fidati Non ho idea No non credo Mi sembra di no Come ti sembra di no? Fidati T'ho mai scammato Tanto a prescindere Anche se vado in safe Comunque voglio esplorare la mappa Per trovare i players Quindi Non mi interessa a prescindere Oh ma è anti-scam Asku ma è anti-scam Raga sono rimasti soltanto in 10 E ricordami Quante kill? 3? 3 kill Asku Sì Raga per fortuna è sceso In un posto remoto Con poca gente Con la safe dall'altra parte Grazie Gioco Epic Ti voglio bene No raga ma chi è che gli piazza le jump così? Cioè veramente Lago ci sarà qualcuno Per forza Per fortuna non ci va? Per fortuna non ci va? Invece ci va? Ma hai il mago Asku? What? Ma Cosa? Hai il mago? Sì Ma non lo sapevo Cioè o lo sapevo e No Hai il mago? Veramente? What? Oh no Ho sentito sparare con un vampa E ho anche delle granate Attenzione La gente è qua fuori safe No stanno fatendo tra di loro Vai brava Asku ma rimani in safe Rimani in safe Togli 100 questa safe One shot Non la prendere Non la prendere Di one shot Attenso Togli ancora uno No ci deve andare Raga Altri 50 euro Altri 50 euro Scammato Altri 50 euro Si avvicina alla vittima Potrebbe essere scammato Guarda che loot Guarda che Fra c'è Fra Jump tutto Ma sono morti tutte e due Ma sono morti tutte e due Sono morti tutte e due Di safe Sì 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 Allè 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 ragazzi Mamma mia Mamma mia Sono rimasti solo i quattro Sono rimasti in tre Sono rimasti in tre Cioè tre nemici Tre possibili nemici Quindi 105 Allora Più di 300 euro Non vado a spendere Quindi Stanno pure fightando Lassù Let's go No ma che è sta cosa No non ci arriva Non lo prende Non lo prende L'ha preso Raga l'ha preso Ricordiamo che ha la jump C'è un'altra jump sotto Questi Chi l'ha questi qua sotto No Guarda Sì Bravi 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 No 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 Chi è quello Chi è quello 15 Sì sì Con 15 mi piace il 15 C'è troppa gente C'è troppa gente Scuma Cerca di La cosa bella è che se tu riesci Sì Ti ha Cosa Ciao scuma No Come non sei morto Bro ti ha buttato fuori con lancio granate Quello da sopra Come non è morto Fra lancio granate quello là Ha impulso Ok non ne avevo Ok ha visto il nemico Guarda che se fai vittoria reale ti do 100 euro Quindi potresti anche killarli Con altre armi senza rischiare Guarda che il nemico sta caricando Lo vedi che è proprio Preconnessionato Io ti consiglio di entrare con la R Lei non riesce a prendere i muri È abbastanza difficile questa pompa Comunque Tutto chiuso 81 Guarda e poi finirlo con altro C'è pure la safe Questa toglie di più Ascuma Devi stare attento Toglie già due Oddio No 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 raga Quanto se l'ha giocato bene Allora Questi sono 50 euro meritati Sono meritati Cosa stai facendo? Ok la jump Questi sono meritati Sono rimasti in due Comunque io ho più di 300 euro raga Non vado a spendere Io ti dico una cosa Se fai vittoria reale Utilizzando un'altra arma La vittoria reale conta 100 euro Quindi decidi te Devi fare i calcoli Lo sto mettendo sotto pressione Lo sto mettendo sotto pressione Quindi ragazzi Massimo 200 euro Perché 50 euro con un'arma E 100 euro vittoria reale Con il pompa Cioè no al contrario Ma vabbè Ma quante jump hai? Sta pushando C'è un nemico sopra eh Quello sopra? Fai qualcosa nella vita? Gli dai una cecchinata in fronte? No niente Ascuma sta cercando di scammare il nemico Quello spara così Cioè quello No non sa giocare raga Il nemico non sa giocare Raga il nemico non sa giocare Però è connessionato Non riesce a prendere il muro a spuma Ma chi è che lancia? Allora Quello usa il lancio franate Non capisco Raga Diventa una build fight Materiali ne ha Materiali ne ha Quello butta giù tutto No Sì Ciao scuma Sì Vabbè Sì Sì Quante kill? 4? 200 euro Raga mi son salvato Cioè in realtà sono 200 euro Cioè ha vinto questo così ragazzi Ha vinto Quello scherzo ha vinto così raga Quello GG Come si chiama? Io lo amo Io lo voglio adottare Allora